questo è il nostro secondo giorno di safari qui nel selus park e ieri abbiamo visto almeno tre dei big five elefanti bufali e finalmente tantissimi leone tanti ma veramente tanti siamo al nostro secondo giorno qua al selus ieri si abbiamo fatto la parte nord del barco adesso ci spingiamo verso la parte interna verso il sud a ricerca di maggior numero di elefanti perché non sarei visti tanti e sperando qualche felino grazie a tutti 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 grazie a tutti